Il mercato della Pistoiese ha una priorità che è quella di confermare e trattenere giocatori importanti del nostro organico che hanno richieste in questo momento e dove noi non vorremmo assolutamente privarcene perché è un gruppo, il gruppo di Misteri Indiani sta facendo un percorso importante, infatti è cresciuto molto, sono cresciuti i calciatori, è cresciuta la squadra, quindi è un merito che va diviso con il Misteri che ha qualità straordinaria e con il gruppo che lo segue. Quindi è stato un percorso sia nei singoli che di gruppo, quindi noi non vorremmo perdere giocatori di questo gruppo. Logicamente io, inteso come Pistoiese, non tratterremo nessuno contro la sua volontà, devono rimanere motivati, come in quest'estate ci sono state scelte importanti, una su tutti di Amlili, di continuare il percorso con noi. Noi siamo vigili nel poter ritoccare la squadra in piena sintonia con lo staff tecnico e con la proprietà, dove vedremo che si possa migliorare senza dubbio. Dobbiamo, in questo momento non ho l'impellenza di andare a toccare un reparto invece di un altro, vediamo, in base all'evoluzione del mercato, alle occasioni che capiteranno, dove penseremo. Perché poi la difficoltà del mercato di gennaio è che a volte pensi di migliorare e magari fai un errore. Noi se faremo qualcosa è perché avremo la sensazione che potenzialmente la squadra sarà migliorata, quindi io sarei vigile in tutti i reparti. Ho trovato anche un settore giovanile dove davvero sono stati fatti passi da gigante negli ultimi periodi. E effettivamente c'è una trattativa importante con l'Empoli dove potrebbe concretizzarsi in entrata all'arrivo di Boganini, un 2003, un ragazzo di ottime prospettive. E ancora più gratificante per noi potrebbe essere, ripeto, si sta trattando in queste ore e in fase di definizione la trattativa, anche la cessione di Tempesti 2001 ad Empoli. Un ragazzo che spesso si è allenato con la prima squadra, un centrocampista secondo me di buone prospettive davvero. Questo ci rende felici di un ragazzo che ha giocato gli ultimi 4-5 anni qua da noi. È davvero, ripeto, gratificante che venga premiato il lavoro di tutto il settore giovanile. Quindi vanno i complimenti a chi ha lavorato in questi anni perché si stanno raccogliendo i frutti.